La Globo Info Service Campi si lascia alle spalle il brutto derby con l'amatori Pescara, costato l'accesso alle finali di Coppa Italia, e ricomincia con una vittoria il girone di ritorno. Va subito detto che il quintetto di Piero Millina non ha brillato nella trasferta di Isernia, parché è spugnato di misura e in rimonta dopo essere stato sotto per più di tre quarti. Alla fine la maggiore esperienza e tasso tecnico hanno fatto la differenza contro il quintetto molisano impelagato nei bassi fondi della classifica. Come detto però la Globo ha fatto fatica sin dalle prime battute ed è rimasta faticosamente in scia, 25-21 alla fine del primo quarto, 40-33 l'intervallo, distanze sostanzialmente immutate anche al trentesimo, 58-54. Nella decisiva e ultima frazione Isernia sembra allungare in maniera definitiva con l'iniziativa di Manetti e Patani fino a essarsi al più undici al trentaquattresimo, 65-54. Sul più bello però i pentri si fermano e da lì alla fine segneranno solo due punti. Campini approfitta trascinata dall'uomo che non ti aspetti, Rizziero Ponziani che segna 10 dei suoi 19 punti negli ultimi 5 minuti con tanto di canestro della staffa a una manciata di secondi della fine, coronando il parziale di 2-16 per il 67-70 finale. Chirurgico Ponziani con un 9 su 10 del campo e 5 rimbalzi, anche se il migliore marcatore della serata è Serroni con 21 punti, poi Duranti 12 e Gatti 11. La vittoria permette alla Globo Info Service di tornare al secondo posto, complice della sconfitta di Bisceglie sul parquet di Montegranaro che ora guida il girone D con un più 4 sul due di inseguitrici.